Alcuni dei migranti si sono feriti con una lametta alle gambe per cercare di attirare l'attenzione sulla loro condizione mostrando i tagli e le ferite. Lo racconta una delegazione di Lasciateci Entrare che ieri si è recata nel centro di identificazione di espulsione barese in compagnia di due deputati di Sinistra Ecologia e Libertà e dell'avvocato Pacione della class action procedimentale di Bari che si è battuta per la chiusura del CIE o quantomeno per l'adeguamento degli spazi della struttura e di rappresentanti di associazioni locali impegnate sul fronte dei diritti dei migranti. Tutti insieme hanno riscontrato la violazione dell'ordinanza del giudice del 9 aprile scorso che ordinava di eseguire perentoriamente entro 90 giorni i lavori necessari per garantire condizioni minime di rispetto dei diritti umani nel centro di espulsione di Bari. I lavori dovevano essere eseguiti in particolare nei dormitori. I migranti raccontano di non poter scegliere gli avvocati per essere difesi, del cibo scadente, del divito di usare smartphone per impedir loro di inviare all'esterno le immagini del luogo in cui vivono. La maggior parte racconta di vivere come cani e di sostare nel CIE ben oltre i 90 giorni prescritti per legge, propedeutici per il rimpatrio. Le sbarre, ha raccontato la delegazione, sono dappertutto, nei corridoi i vetri delle finestre sono rotti, piove dal tetto, nelle sale benessere e in camera da letto. I bagni riuniscono docce e vasi alla turca in un unico box, senza privacy alcuna e acqua premiscelata per tutti. I lavandini vengono usati anche come lavatoi per gli indumenti che lì rimangono a sgocciolare per un bel po'. Ciò che era stato prescritto dal giudice non è stato portato a compimento, ha commentato Pacione. Grazie